caffè dubas alto a scendere ormai sono finito sono un uomo morto trampo non so come riuscire a fare questa discesa e poi dopo ancora tanta strada per tornare a casa grazie francia ancora una volta il lobo il lobo con amore questa che dovrebbe essere la parte divertente a seguito il tira la dottore non posso manco stare in piedi perché qua è tutto basso come si fa boh frutta andiamo di qua francia è seguitato a canone come il suo solito come faccia passare lui qualche un bisonte francia non mi ascoltare pura invidia la mia è dolores la gamba la gamba morta tutta la forcella oh che dobbiamo rama non lo so molto divertente molto bello super figo non posso più spingere perché le gambe non ce l'hanno più la batteria la devo preservare questo è molto molto bene non ci serve portare più gente qui ma per arrivare se non hai le bike in questo tipo di diritto e non sei allenato e lì potevo saltare un po' attento alla ferraggia ramo niente di grave per fortuna oh la solita eh questa è in turbo la faccio non ce la faccio più un po' smonso un po' smonso ma bello non mi ricorda un hangar ciao ciao è questa che cazzo è no non è c'è frank con la bicicletta nuova george a bulliccio è stanco bello bello oggi era bellissimo questo pezzo lo farei 20 volte l'ho scaldato vediamo che è Josh era bello peccato che peccato che con il casco non ti si può guardare con il casco con il casco grazie grazie che è successo che è successo che è successo ciao ciao oggi l'abbiamo sta ancora non ha parola cosa c'è che è successo c'è la bici olimpionica c'è la bici dal campionato ciao 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 abbiamo messo a durare la prova non solo lui dica mi tira non so l'interno coscia oh due o tre singoli saluto si no ma perché ho fatto palestra io è il primo giorno di palestra si padel tennis no ma non è quella è la palestra perché era una vita che non andavo qualche carico no no ma è solo penso che sia roba di crampetto ragazzi ciao 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 ragazzi ciao male alla prossima ho stato bloccato vi avete bloccato il comp eh lavoro sul com anche io un com il com il com però devo dire che ho beccato anche un ramo mi sono fermato no tutto bloccato ecco ciao sai che cazzo eh bello allora 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 se me pregano tanto se un po'